La Roma è andata sul sicuro, sarà Claudio Ranieri il nuovo allenatore fino al termine della stagione. Dopo gli esoneri di De Rossi ad inizio campionato e quello di Ivan Juric dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Bologna, la proprietà americana ha scelto il tecnico 73enne per traghettare l'11 giallorosso, ma la novità più importante è che Ranieri avrà un ruolo dirigenziale nella Roma appena terminerà la stagione. Una scelta chiesta a gran voce dai tifosi.Il comunicato della Roma, l'Es Roma è lieta di annunciare che Claudio Ranieri è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra. Al termine della stagione assumerà un ruolo dirigenziale senior, sarà consulente della proprietà per tutte le questioni sportive del club. La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione. Romano di nascita, romanista da sempre, dopo aver vestito la maglia giallorossa da calciatore nella stagione 1973-74 e aver ricoperto la carica di allenatore in due diversi momenti, dal 2009 al 2011 e nel 2019, rappresenta un simbolo dei valori del club ed è uno degli uomini di sport romani più apprezzati nel mondo. Ranieri porta in dote il suo enorme bagaglio di conoscenze ed esperienze maturate tra Serie A, Premier League, Liga e Ligue 1, guidando i migliori top club d'Europa e vincendo titoli storici, come quello ottenuto alla guida dell'Ester nel 2016. Il club rivolge al tecnico i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo capitolo della sua entusiasmante carriera, certi che rappresenterà un valore aggiunto per la squadra e per tutta l'Es Roma. Forza Roma e bentornato a casa mister!